scopri i cinque modelli di business online per guadagnare da casa nella vita le opportunità non vengono con l'ascensore devi prendere le scale lavorare online è una di queste scale il primo modello è l'affiliate marketing non devi creare nulla solo promuovere i prodotti o i servizi di altre aziende se sei un creativo la seconda opzione potrebbe essere per te vendere i tuoi prodotti o servizi originali su piattaforme come zio fever terzo modello il drop shipping non devi preoccuparti della gestione dell'inventario o della spedizione tutto ciò di cui hai bisogno è un sito web dei fornitori penso che tutti abbiate sentito parlare del modello numero 4 l'investimento in criptovaluta si può essere rischioso ma i rendimenti possono essere altissimi infine il il quinto modello è l'insegnamento online se hai una competenza o una passione perché non condividere la tua conoscenza con il mondo